Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuto Michele Geraci, sottosegretario allo sviluppo economico e regista per la parte italiana del memorandum, del tanto discusso memorandum con la Cina. Buonasera, bentornato Massimo Cacciari, filosofo, buonasera, benarrivato Piff, attore, autore, regista, conduttore e cuoco e quant'altro e comunque con un nuovo film. Allora si riaccende la tensione tra Italia e Francia sulla TAV e sulla Cina, l'accordo che noi stiamo per sottoscrivere con Xi Jinping come sapete in visita a Roma. Per il governo Conte è un segno di forza o è l'isolamento dall'Europa che causerà invece solo danni per il nostro Paese, subito dopo la pubblicità. Sottosegretario Geraci, allora oggi c'è stato un altro incidente con la Francia di Macron sulla TAV, il presidente francese ha detto che è un problema interno italiano e che lui non ha tempo da perdere anche perché è stato firmato un accordo internazionale sulla TAV. Come replica il governo italiano? Il governo italiano è chiaramente pro-infrastrutture, noi crediamo nello sviluppo, io personalmente da economista credo che qualunque sia economia, bisogno di un sistema di trasporti degno, nel caso dell'Italia degno di un Paese del G7, quindi vanno bene le infrastrutture, va bene anche ad altelo velocità. Attenzione, la TAV non va vista come una cosa così isolata, va vista in un contesto di sviluppo delle infrastrutture anche locali, perché è chiaro che chi volesse andare da Torino a Lione, deve prima arrivare a Torino, questo lo sapete, c'è un processo di decisione che tra l'altro non mi coinvolge direttamente, perché è il ministero, fa parte del governo, però io penso che si vada verso un approccio più olistico alle infrastrutture italiane, non solo TAV sì, TAV no, ma sviluppo complessivo di tutto un sistema portuale, ferroviario, aereo. Le piace questo approccio Cacciari, non è che le renda la TAV più simpatica, perché lei è contrario? Molto, sono per un approccio olistico in tutti i campi, in tutti i settori, mi pare che in Italia un approccio olistico di sistema per il pubblico olistico venne dal greco olon, che vuol dire intero, tutto, sia quanto di più lontano sia accaduto nel corso degli ultimi almeno 40 anni, quindi speriamo che almeno in un settore sia la volta buona, non lo so. Ecco, ma vediamo l'Italia troppo isolata, non solo sulla questione della TAV, ma anche adesso con la questione della Cina. Ma guardi, il discorso è che tutti i paesi, i singoli paesi, adesso la Francia ha la sua grandeur da difendere, da conservare, la sua immagine, ma tutti i paesi sono piccoli, piccoli e piccolo non è bello in politica, a differenza di quanto gli inutili idioti dicevano nel passato, piccolo non è bello, o meglio è bello se i piccoli si uniscono e fanno catena, sono anelli di una catena, i singoli paesi non possono nulla, ognuno cercherà disperatamente di accapparare investimenti cinesi, americani, russi, ognuno, come sta avvenendo, come sta avvenendo in Gran Bretagna, come sta avvenendo perfino in Germania, sta avvenendo ovunque, per forza, perché i piccoli paesi europei, ognuno per conto suo, è piccolo e brutto, non piccolo è bello. Però mi scusi Cacciari, per la verità il Presidente francese Macron invadrà Xi Jinping, il leader cinese, insieme a Juncker, il Presidente della Commissione, e insieme a Merkel, quindi tanto qualcuno si sta organizzando un po' meglio. Bisognerà vedere, adesso bisognerà conoscere i termini dell'accordo, bisognerà conoscere i protocolli, bisognerà conoscere quali sono le intese, ma non cambia nulla nella sostanza, nella sostanza un sistema che non è sistema, l'opposto di olistico, europeo, dove vigono ancora tutti gli stati, perché ci sono gli stati di e basta che decidono alla fine in Consiglio, dove non c'è politica sociale comune, dove non c'è politica fiscale comune, dove non c'è politica estera, questi nel mondo contemporaneo, ma dico a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, perché i padri fondatori dell'idea d'Europa lo sapevano benissimo, lo dicevano, andatevi a leggere quello che diceva De Gasperi, Schumann, Adenauer, i singoli paesi europei non potranno mai competere né con i titani vincitori della seconda guerra mondiale, tantomeno adesso che ai due si sono aggiunti Cina e in India, che va avanti al 6% di aumento del PIL all'anno. La Cina investe il triplo di noi in ricerca e sviluppo, dico noi europei, la Cina negli ultimi dieci anni ha decomplicato le spese militari. Io sono d'accordo con lei, glielo dico subito, ora si arrabbia perché gli ho dato la ragione. Tu che idea invece ti sei fatto? Uno del governo italiano che parla oggettivamente con due voci diverse. No, a me viene in mente, visto che vengo dal cinema, il film Goodbye Lenin, la storia di una signora della Germania all'est che entra in coma, si risveglia e il comunismo non c'è più. Ecco, mi chiedevo, ma se uno fosse venuto e entrato in coma un anno fa, due anni fa, si è ritrovato un dottor Geraci palermitano leghista, la Cina, il presidente, no perché siamo palermitani, a me quando viene un palermitano leghista mi fa sempre impressione. I figli avevano tenuto la signora all'oscuro del cambiamento nella posa stanza. Esatto, cosa avevano fatto? I figli di questo signore? Eh vabbè, intanto Geraci è... La Cina sarebbe, ora è al centro, viene accolto come se fosse il presidente. Questa è secondo me una cosa importante e vi devo fare anche... No, ma ci racconti un attimo, mi scusi, perché diciamo, giustamente, Piff sottolineava il fatto che lei è del sud, di Palermo, siciliano, leghista, la Lega, fino a non molto tempo fa, non esisteva neanche al di sotto del... Anche questo è un cambiamento. Però quando ci davano dei puzzoni, i terroni di merda, ecco, questa cosa mi ha sempre colpito, ma non dico che è incoerente, sicuramente c'è una incoerenza, però mi fa ridere che vi stupite quando un palermitano vede un palermitano leghista, insomma, un minimo di motivazione c'è. Ma no, ma io sono intanto grato a Matteo Salvini che mi ha chiamato dalla Cina dove vivevo, come sapete... Tutto torna. Tutto torna per cercare di dare un minimo contributo ad avere quell'approccio appunto listico che il dottor Caccia diceva non c'è mai stato, che stiamo piano piano cercando di dare, è chiaro che non è facile, però anche questo nuovo approccio alla Cina, questo nuovo approccio alla Lega. Alla Lega che si espande al sud, attenzione, la Sardegna, la Basilicata, quindi c'è... Ma è concetto, loro ci credeva, cioè Salvini ci credeva, credeva quando noi eravamo dei terroni di merda o crede ora che siamo l'Italia prima di italiani? Cosa credeva di più? Credeva, cioè questo mi ha sempre sfuggito. Ma sono frasi che si saranno dette di inerzia per una Lega degli anni 90 che adesso non c'è più e si è evoluta, anche noi cambiamo Italia. L'importante è questo, cambiare... Se io le insulto oggi non si offenderà, perché domani... Tra dieci anni glielo dico. Tra dieci anni dirò che ho cambiato idea, non è più te, allora la perdono. La bellezza dell'Italia del cambiamento, vero? Sulla Cina però, siccome è un accordo importante, quello che pare almeno importante, quello che stiamo per firmare, anche se lei ha detto che non è vincolante, non c'è niente di vincolante in questo memorandum d'intesa, né per il governo, né per... e allora? E allora, è un memorandum che è una cornice, dove non dà obblighi a nessuno dei due governi, però qui entra in gioco la differenza tra un'economia capitalista comunque di mercato come l'Italia e un'economia statalista, dove qui quando il governo fa un accordo le società, le aziende sono libere di seguire o meno e quindi abbiamo una relativa influenza minore. In Cina invece quando il presidente Xi Jinping firma un memorandum che non ha valore legale, non ha obblighi, le aziende reagiscono in modo implicito perché sanno che il presidente, che è il loro direttore generale, gli ha dato questo placet implicito e allora loro già, e in questi giorni lo abbiamo visto, le aziende cinesi si cominciano ad attivare, stanno cercando quali sono le opportunità di bisognare. Oggi abbiamo avuto dei meeting con 100 aziende cinesi che abbiamo messo a tavolo con altre rispettive aziende italiane e loro erano curiosi di dire beh il nostro presidente è qui a Roma, domani andrà a Palermo, saremo a Palermo e anche lì dicono cosa c'è a Palermo, cosa si può fare. Questo per me è già un chiarissimo segno positivo e lì la differenza tra l'obbligo che per noi non c'è ma per loro neanche, ma loro si muovono come se l'obbligo ci fosse. È tutto chiaro Cacciari? Anche perché siamo il primo e finora unico paese del G7 che ha deciso di firmare con la Cina per la via della seta, che è l'altro punto in discussione, abbiamo fatto arrabbiare moltissimo gli americani e gli europei anche appunto. Riprendo il punto di vista olistico, non c'è nessun ragionamento economico, nessuna strategia economica nel mondo contemporaneo che non sia politica e viceversa, è ridicolo separare i due aspetti. È chiaro che vi è una contrapposizione di spazi imperiali, in particolare tra Stati Uniti e Cina, quando dico contrapposizione non vuol dire che sia necessario poi il conflitto tanto meno armato, perché ci sono infiniti motivi anche di convergenza, infiniti motivi anche di interesse comune, però ci sono interessi fondamentali contrapposti e come andranno a finire, quale sarà il gioco, la risultante in questo disordine globale del mondo contemporaneo di queste contrapposizioni che io definisco imperiali e lo sono, non si può dire. Quello che è certo è che questi imperi si muoveranno nel tentativo di accaparrare il massimo possibile di appoggi a livello internazionale, per questo sia la Russia da un lato, sia gli Stati Uniti dall'altro con Trump, esplicitamente lavorano perché l'Unione Europea non proceda, non maturi, non dia frutto. Questo è palese, evidente, dichiarato da tutte le parti. Quindi è chiaro che noi siamo nel mezzo di una contrapposizione tra blocchi imperiali e al momento, mancando di qualunque politica europea, estera, sociale, e economica, siamo l'anello debole di questo disordine globale. Questo è il punto. Distingue tra economia e politica è sempre più ridicolo nel modo contemporaneo e la Cina lo insegna, dove hanno inventato questa struttura in cui l'aspetto economico, l'aspetto politico, il potere economico e il potere politico sono perfettamente integrate, tanto è vero che alcuni studiosi parlano appunto, giustamente, secondo me, di capitalismo politico, dove l'aspetto politico e l'aspetto economico sono diventati assolutamente inscindibili. Ma in grande misura questo vale ormai anche per la società americana. Vedi appunto Trump, ma prima di Trump vedi gli stessi presidenti precedenti, vedi gli intrecci di interesse assolutamente, i conflitti di interesse assolutamente bestiali, per esempio nella presidenza Bush. Quindi ormai è un fenomeno globale, di nuovo l'Europa o diventerà una voce europea in politica estera e in politica internazionale, oppure i singoli staterelli faranno la sorte e finiranno con l'essere pure province. E' quello che sta accapitando a tutti, nessuno escluso. Sottosegretario Geraci, noi però stiamo andando da soli, piccolo staterello, ci hanno definito come un piccolo club, non diamo proprio l'impressione di guadagnarci tanto in questi accordi con la Cina, che è un colosso, che ha un sistema economico completamente diverso. Dove ci guadagniamo? Noi ci guadagniamo perché... Ho letto che abbiamo un accordo per cui esporteremo dalla vostra Sicilia per circa 450 milioni di dollari. All'interno dell'Unione Europea ci sono altri 13 paesi che hanno già firmato, quindi l'Italia non è l'unico... Ma voi non vi siete raccordati però con gli altri paesi europei? Noi abbiamo fatto, lo sai cosa suonare? Per la prima volta il leader. Perché un paese appunto del G7, leader, fondatore dell'Unione Europea, tutto quello che vogliamo, per una volta in Europa fa il leader. E si sono arrabbiati tutti però, tanto avete fatto bene che si sono arrabbiati tutti. Ma è ovvio perché io cosa faccio? Il dottor Cacciari conosce bene Venezia e noi stiamo cercando di fare un accordo per esempio con i porti del nord e dell'Adriatico. Cosa farei? Chiamo il mio collega ad Amsterdam, olandese, gli dico senti abbiamo una strategia comune per i porti, però sai forse un po' del traffico da Suez, invece di fare via Gibilterra a Rotterdam, lo fermiamo qui tra Genova e Venezia. È chiaro come si realizza una strategia europea sui porti, è chiaro che ognuno fa gli interessi propri e se mi consente la Cina ha investito nei porti di Le Havre, Bilbao, Valencia, Marsiglia, Rotterdam, Mersa, Zebrug, Dunkirk, Malta, Pireo, Gibilterra e Istanbul. Dobbunque, cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di giocare anche noi un ruolo attraverso i porti che a loro possono interessare senza venderli, attenzione, perché non stiamo vendendo. La Cina fa il suo mestiere come gli Stati Uniti, divide e timpera. Ecco, esattamente questo è il punto. L'alternativa qual è? Perché se noi non firmassimo, loro fanno, beh, non compriamo, non investiamo a Trieste, raddoppiamo Marsiglia di nuovo ed essendo in Europa, le merci che entrano a Marsiglia arriveranno in Italia e noi vogliamo giocarcela, avere almeno un controllo anche su cosa entra. Apriamo i porti, ogni tanto li apriamo. vogliamo che le merci cinesi arrivano nei nostri porti, così sappiamo cosa arriva, perché se vanno nei porti francesi o di altre nazioni, il controllo della merce, della qualità potrebbe non essere... Questo è un argomento, mi perdoni, un po' debole, perché insomma in Europa se non abbiamo delle regole comuni è anche sul controllo delle merci, comunque. Però facciamo più ricavi se le merci si scaricano e si lavorano a Genova, a Venezia, a Trieste o anche a Palermo. È un accordo per... Divide e timpera, non c'è niente da fare, in ogni paese fa i suoi interessi, il ragionamento del sottosegretario dal punto di vista di appunto di... è così, perché se non lo fa l'Italia lo fa la Francia, lo fa le cose, l'assenza di Europa condannerà tutti, condannerà l'Italia alla fine, a diventare province. Ci sarà chi è contento, per il tutto sommato, forse il nostro destino. Io penso sempre di più che sia proprio il nostro destino, non c'è più nessun spirito diciamo europeo diffuso per dire diventiamo protagonisti politici, economici, anche militari nel mondo contemporaneo. Questo spirito non esiste più, quindi è inevitabile andare nella direzione che indica il sottosegretario. O c'è una reazione soprattutto dei giovani, delle nuove classi, di dire no, io non faccio il suddito. Io qui sono padroni in Europa, che è l'unica dimensione nella quale puoi essere padrone, perché in altre dimensioni non sei padrone altro che del tuo focolare domestico e accanto ma la Lega, il partito al quale appartiene il sottosegretario, di sicuro non lavora per questa Europa. Ma neanche Trump, ma neanche Putin, lavorano all'opposto, ma neanche la Cina non ne frega niente, la Cina non ne frega di fare gli accordi dove gli conviene, una volta sarà in Italia, l'altra volta sarà in Olanda, l'altra volta in Gran Bretagna, non ne frega niente. Sono paesi che sono tutt'uno col grande capitalismo finanziario, Ubi-Pecunia, Ubi-Patria, vogliamo ficcarselo nella testa o no? Noi stiamo facendo, stiamo cercando di fare gli interessi del nostro paese, perché appunto come ha detto il dottor Cacciari, gli altri lo fanno, ma attenzione, non è che lo fanno, lo hanno fatto. Ricordiamoci che il treno che va, l'unica via della seta già esistente, una delle poche, è da Duisburg alla Cina, quindi la via della seta c'è già e c'è in Germania, dove hanno i porti, hanno venduto i porti, dove non li hanno, hanno i treni. È un accordo per quanti miliardi questo che stiamo firmando con la Cina? Questo memorandum non ha appunto obblighi, però io penso che serva a colmare quel gap di export, l'Italia vende alla Cina 13 miliardi, la Francia, l'Inghilterra 20, quindi stiamo cercando di colmare questi 7 miliardi, questa è proprio mia responsabilità e mi impegno a realizzare questo nei prossimi anni, per andare alla pari con gli altri paesi che zitti zitti, come lei diceva prima, si mita la Merkel e Juncker a Parigi, zitti zitti fanno affari, domani Xi Jinping andrà a Parigi, sicuramente ci sarà dell'ordine per degli Airbus, la Germania appunto ha il treno, i porti sono in mano ai cinesi, la Syngenta, la società svizzera è stata venduta ai cinesi, ha ragione dottor Cacciari, questo è già successo, quindi la nostra scelta è giochiamo anche noi la nostra partita nell'interesse del paese o aspettiamo? E io come dicevo prima, l'Italia vuole giocare un ruolo, questo è forse leghista, vuole giocare un ruolo forte in Europa, cioè noi abbiamo abbandonato Bruxelles perché abbiamo detto beh tanto la politica commerciale la fanno loro, Bruxelles, da ora noi vogliamo nei limiti di quelle che sono le competenze. Spero che non abbiate abbandonato Bruxelles, diciamo lo spero per il bene del nostro paese, ma insomma, modo di dire. Ma sa, poche persone anche lì, pochi studi, si sono perse anche le competenze sulle analisi, io sono tornato in Italia quando chiedo un'analisi di libero scambio, dico beh tanto non tocca a noi, tocca a Bruxelles, la fanno loro, e dico ma loro chi? Quindi ora noi alla Lega, al Governo, anche d'accordo con il 5 Stelle, vogliamo avere un'Italia forte a Bruxelles per fare i nostri interessi. La vedi Pif? No, ma è la classica cosa che veramente immana la politica, perché uno non ha, un cittadino normale non ha le competenze, nel senso che in mano alla politica, nel senso che una persona normale non ha idea, cioè detto così a me mi sembra un affare, però poi c'è anche la visione di cacciare, è veramente in mano alla politica e avete una grossissima responsabilità, perché il cittadino medio... E ti fidi tu? Sei tranquillo? Ma non lo so, mi devo fidare di uno che mi dava del terrore No, ma fidati di me, non riesco a capire, è inaffidabile tutto il mondo ora, vorrei fare generalizzare, però insomma, torniamo al punto di partenza, io mi devo fidare di uno che mi insultava, però va bene. Però guarda, io sono palmitano, fidati di me, conosco un po' la Cina perché ci ho vissuto da dieci anni, so i rischi e le possibilità e le opportunità, quindi... L'armonia cinese mi dava a tellone di melda, no? No, loro li conosci, stanno bene qua in armonia, l'armonia domina la società cinese anche se è contraddittoria rispetto a quello che magari si immagina. Ma nel memorandum c'è anche un capitolo sui diritti umani? Non c'è, però c'è un capitolo molto importante, è sui cambiamenti climatici, ed è la prima volta che un paese europeo... Cambiamo tema, come diciamo, lei ha detto armonia, la parola armonia in un paese come la Cina può avere un valore, diciamo, doppio-triplo, mentre la questione dei diritti e del rispetto dei diritti umani è una questione molto seria, come lei sa, quindi questo non c'è... Ed è importantissima. Cacciari? Non fa parte dell'armonia nella concezione confuciana, non fa parte dell'armonia, i diritti umani sono una creazione del tutto occidentale, del tutto europea e di una parte della cultura europea che ormai è andata a farsi fotterri, quindi stiamo tranquilli, da questo punto di vista non daremo alcun fastidio alla Cina, non abbiamo più nessuna faccia per parlare di diritti umani noi europei, quindi stiamo tranquilli che da questo punto non ci sarà nessun conflitto ideologico con la Cina. Il sottotitario riceve tutti i colpi di gomma questo, complimenti. No, 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 c'è un motivo, non siamo qui che abbiamo firmato otto mesi che ci lavoriamo. Ho parlato in Cina dopo tanti anni di vita in Cina. Quando mai poi in un accordo di affari è saltato fuori la storia dei diritti umani? Quando mai? Tra l'altro. Mi pare non solo superfluo tirarlo fuori oggi. Scusate, ma il fatto che in Cina producano a un prezzo infinitamente più basso le stesse merci, apparentemente le stesse, questo sarà un problema per noi in Italia o no? Scusate, assolutamente. La Cina produce a bassissimo costo... Lei mi dice assolutamente ma non mi dice come viene tutelato all'industria italiana e il prodotto italiano. Aspetta, le faccio rispondere subito. Cacciari, cos'è che non la convince? Ma non mi convince, mi scusi la domanda. Lo sviluppo cinese è negli ultimi 35-40 anni straordinario, strepitoso, assolutamente imprevisto da chiunque e soprattutto dagli economisti, quelli che magari sono andati in Cina a studiarlo dal punto di vista sociale, potrebbero non prevederlo. È dovuto semplicemente a questo, è dovuto semplicemente a condizioni di lavoro, di erogazioni di lavoro, condizioni politiche, eccetera, che escludevano nel modo più assoluto ogni considerazione di diritti umani. Prendevano intere popolazioni, le mettevano dove volevano, costruivano nuove città e portavano la gente dalle campagne a milioni, ma vogliamo scherzare con condizioni di lavoro bestiali e con salari altrettanto bestiali. Questo è stato il decollo cinese ed è dovuto anche in gran parte, che ha tirato fuori dalla miseria tantissime persone, sia chiaro, centinaia di milioni di persone tirate fuori dalla miseria più nera. E grazie a che cosa? Grazie alle lotte europee. Lo sviluppo dei paesi sottosviluppati è dovuto al fatto che tra anni 50 e anni 70 c'è stata una grande trasformazione nella distribuzione del reddito dei nostri paesi a favore delle classi operaie, lavoratrici, classi medie e questo tra anni 70 e anni 80 è stato rovesciato dai Reagan, dalle Thatcher, eccetera, eccetera. Da lì è partito il grande sviluppo, prima in Cina e poi in India. Questa è la storia. Anche perché non è una coincidenza che proprio alla fine degli anni 70-80 avevamo in tre blocchi Reagan, la Thatcher e Deng Xiaoping in Cina fondamentalmente dicendo la stessa cosa, bye bye con un approccio più sociale all'economia e viva il mercato dal Reaganismo, la Thatcher ma il problema è che noi siamo invasi a prodotti made in China fatti alla metà della metà della metà del costo in Italia. Ma questo sa perché è dovuto a due motivi, le rispondo non da politico, da tecnico, è dovuto a due motivi. Uno perché c'è una... Noi quello che voglio dire non riusciremo mai a eguagliare la nostra esportazione rispetto a queste importazioni a bassissimo prezzo. No possiamo perché la Cina produce a bassissimo prezzo per due motivi. Uno perché la gente lavora 20 ore al giorno, due perché ha una scala e nel manufatturiero la scala abbassa i costi medi e su questo non possiamo competere. Però noi possiamo competere sulla innovazione, sulla creatività perché accanto a un pezzo di hardware su cui non possiamo competere si aggiunge qualcos'altro ed è per questo che la moda italiana in Cina fa 2 miliardi e 7. Gli compriamo il cotone. La moda italiana che non c'è più sotto segretario, le dovremmo sapere come è tra quasi della moda italiana, sono la proprietà di altri. Sono proprietà francesi, sono proprietà americane, sono proprietà svizzere, sono proprietà... Di quello che stiamo parlando, in Italia ormai la struttura industriale italiana nelle filiere moda, agroalimentare eccetera, negli ultimi vent'anni è passata in mano straniera. Però la LVMH e anche Kering che hanno ovviamente tante aziende italiane, loro non hanno spostato la produzione, la Gucci, la Gucci non è italiana, non è italiana, è l'azionista francese, ma la produzione... Ma sì, ma poi ci potrà fare quello che vuole, tanto che gli conviene farà il Made in Italy qua e quando non gli converrà farà il Made in Italy in Cina. E' così, purtroppo è così. Quanto vuole che ci metta a spostare uno stilista? E per questo dobbiamo innovarci a una velocità sempre crescente, questa è la competizione che magari a noi non può piacere, però è questa la corsa tra la scala, la qualità e la quantità. A me piace, dico semplicemente che un singolo paese per competere a questi livelli oggi al mondo contemporaneo, un singolo paese deve avere dimensioni continentali, se no diventa una provincia, ma cessa di avere ogni voce politica e dipenderà tutta la scena dalle decisioni altrui, perché politica e economia non sono scendibili, tutto qua. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, in chiusura di questo capitolo cinese, perché gli italiani cosa hanno capito di questo memorandum d'intesa? Pochi secondi di pubblicità. Secondo il sondaggio condotto in queste ore da Demopolis, la maggioranza degli italiani è favorevole all'intesa commerciale tra Roma e Pechino. 3 su 10 non la condividono, mentre il 19% non ha un'opinione. Tra le ragioni a favore della scelta del governo Conte, le più citate sono due. Il 43% ricorda che l'Italia ha bisogno di investimenti esteri, il 35% segnala che questa potrebbe essere l'occasione per rafforzare l'espansione del Made in Italy in nuovi mercati. Qualcuno pensa anche che così si valorizzi il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo e in Europa. Tra chi invece dà un giudizio negativo sull'intesa con Pechino, prevale il timore che la concorrenza delle merci cinesi a basso costo possa danneggiare i produttori italiani. Si teme anche il controllo dei cinesi su alcuni porti del nostro paese e una crisi nei rapporti con gli Stati Uniti e i partner dell'Unione Europea. Interessante nel sondaggio dell'Istituto diretto da Pietro Vento è l'analisi delle posizioni degli elettori dei principali partiti. I più favorevoli all'accordo con la Cina sono gli elettori del Movimento 5 Stelle e la maggioranza degli elettori leghisti. Più critici gli elettori del PD e di Forza Italia. Allora adesso cambiamo completamente argomento e parliamo di momenti di trascurabile felicità. Pif è il tuo momento e io adesso voglio far vedere un trailer del tuo nuovo film che porta a questo titolo quanto promettente. Guardate. Le danni che passo da quell'incrocio senza mai sbagliare. Stavolta. Mentre morivo pensavo che avrei fatto i conti con le cose importanti della mia vita e invece c'è un errore. C'è un errore. C'è un errore. Lei può tornare sulla terra per il tempo che si è guadagnato con l'uso abbondante delle centrifughe. Un'ora e trentadue. Io pensavo dieci anni. Voglio vivere così. Con la sole in fronte. E' felice come... Non spaventare nessuno. Per esempio non chiedi a tua moglie se t'ha mai tradito. Ma tu mi hai mai tradito? Ok papà ti voglio bene però sto giocando. Non lo so io che quando giochi il tempo rallenta la vita si allunga papà. Dalle sette e venti in punto si torna su. Voglio vivere così. Sei tornato. Da dove? Ci stai provando? No. Peccato. Allora Pif, con momenti di trascurabile felicità cosa ci racconti? Qual è il messaggio? Il messaggio è... Vedi, io nel film muoio e torno per un'ora e trentadue minuti perché ho preso delle centrifughe ma che valgono soltanto un'ora e trentadue minuti e rifaccio i conti col passato, con gli errori e invece di pensare ai grandi momenti della vita penso ai momenti di trascurabile felicità e infelicità che poi sono quelli che sommati fanno la vita. Dimmene uno tuo, un momento di trascurabile felicità? Volevo attualizzarlo. Un momento di trascurabile felicità quando il governo si ecciterà nell'aprire i porti sia con le merci che con le persone umane. Questo sarebbe un momento neanche di tanto trascurabile felicità. C'è lo stesso entusiasmo e lo stesso ottimismo che parlare degli esseri umani come con le merci. Prevede che in futuro sentiremo Salvini più spesso dire apriamo i porti o lo escludiamo? Guardi, i numeri, fino a quanto? Perché la capacità è limitata. Poi il problema si riporrà. Possiamo farlo una volta, due, dieci, cento, l'Africa arriverà a due miliardi e mezzo. E' chiaro che non è una cosa che si occupa attorno all'argomento. In quel caso l'Europa aiuta a frequentarlo più spesso e parlare di questo sarebbe utile. Però mi consento una battuta per concludere. L'economia è dominata da due cose. Una è la demografia e l'altra è la geografia. Ma noi siamo 500... Guardi, anche Cacciari è d'accordo. Abbiamo chiuso... No, però Cacciari è d'accordo sui porti più aperti. Io sono d'accordo sulla demografia e quindi una persona che ragiona e che sa che in Africa appunto saranno tra breve più di due miliardi, e cioè quattro volte quelli che siamo noi, a differenza di quello che era un secolo fa dove noi eravamo il doppio di loro, grosso modo. E' capito? In una situazione di questo genere o c'è una politica mediterranea, una politica africana che attualmente la fa la Cina facendo shopping... E' europea, no? Abbiamo sempre detto. Beh certo, o se no noi faremo gli spot alla Salvini per l'appunto, che una volta c'è la Diciotti che sbarca, l'altra volta no, un'altra volta c'è uno alla Fonda, eccetera, eccetera. E questa sta la situazione. Quindi bene, bene, la politica che si fondi su quel poco di scientificità che può avere. L'aspetto demografico è uno di quegli aspetti su cui la politica scientificamente, tra virgolette, potrebbe fondarsi. Lo faccia, lo faccia. Perché appunto i due miliardi di africani in un modo o nell'altro, se per nave, se per zattera, se per aereo, se volando, ma arriveranno dove pensano di poter star meglio. Cosa volete dire, ti dici? Se io mi assumo la responsabilità di tutto questo spostamento epocale da solo, come volutamente... Ma di nuovo è l'Europa, sottosegretario, ma di nuovo è l'Europa, ma è quello che continua a dire, soltanto a livello europeo si può fare. Esatto, però... E allora perché la state sfasciando con i sovranisti ungheresi, polacchi, slovacchi, geraci... Perché la state sfasciando? Risponda, geraci, risponda, risponda. Quello che ha detto il dottor Cacciari è due miliardi e mezzo, sono quattro volte... Ma perché state sfasciando l'Europa? Perché vi state fidgete di assumere tutta la responsabilità da soli, dicendo l'Europa non ci aiuta e non è andata in Europa a parlarne. No, perché ha ragione il dottor Cacciari, che è un paese piccolo, deve comunque avere una soluzione se si comporta come con gli altri, ma l'Europa da sola, neanche la dimensione dell'Europa è sufficiente a risolvere il problema dell'Africa. Beh, insomma... Beh, quattro volte abbiamo detto, no? Guardi, sì, sì, è sufficiente. Sì, ma questa è una cosa, ma questa è una bella scusa per uscire, ma che è sufficiente. Ma se si sposta, ma si fa, la politica è europea, è un signore che dovrà organizzarsi per placare questo fenomeno. Senti, mandatemela la politica europea su 2 miliardi e mezzo di miliardi. Ma anche la politica europea, perché ci sono gli stati, il sottosegretario lo sa benissimo, la politica europea non c'è, perché questa storia dell'Europa è una palla. Perché in Europa ci sono ancora e soltanto gli stati, la Commissione conta nella misura in cui poi è d'accordo col Consiglio e il Parlamento non conta niente, come la Lini Gruber sa perfettamente per sofferta esperienza. E soprattutto io so che se adesso non chiudo, chiudono la mia trasmissione. Quindi, io intanto lo ringrazio, sottosegretario, stia tanto con la Cina e in Cina, però stia tanto di più anche con l'Europa, per favore. Con l'Italia prima. Ma sì, Italy first, Italia... Badania basta! No, non c'è più, non c'è più. Sono diventati italiani e nazionalisti, è veramente, ha ragione Piff, è veramente una bella metamorfosi di cui mi rallegro. Allora Piff, il tuo nuovo film, Momenti di trascurabile felicità, e professor Cacciare, volevo ricordare che lei cura una collana giuridico-filosofica insieme a Natalino Irti per la nave di Teseo, e sono usciti questi due libri, vediamo le copertine, ecco qua, una copertina, poi c'è l'altra, dei Ure e dei Comunicati. Uno è filosofico-filosofico e l'altro riguarda la famiglia, cioè la famiglia che non c'è più, diciamo così. Ecco, questi due libri li diamo al sottosegretario Geraci, così lo spiega i cinesi. Al sottosegretario che lo porti ai suoi colleghi leghisti. Grazie, grazie mille. Linea subito a Diego Bianchi, al quale chiedo Venia per il ritardo, propaganda live con Ezio Mauro e molti altri ospiti, e quindi restate con noi e noi ci vediamo come sempre domani 8 e mezzo. Arrivederci.